Siamo arrivati a Flavio Gamer che vi parla, tornate su FG Gaming, in questo video sarà lo sguardo allo shop del 14 gennaio E oggi lo shop, soprattutto per quello che mi volevo prendere, ha davvero un sacco di roba Quindi andiamo subito a vederlo Ed è davvero stracolmo Boom Un sacco di set Ma soprattutto abbiamo un grande ritorno della regina dei ghiacci Che più tardi compreremo, lo dico subito Questa era la skin da 2000, misteriosa, che ho accennato qualche giorno fa Comunque, iniziamo subito, andatemi bene evidenze Iniziamo dal set degli uccelli vecchi Era coraggiosa Antonio, mi piace un botto, ve la consiglio Non so perché, perché non è il mio stile Sarà che sto romano Che un po' mi rispecchia, diciamo Sto backpack pure, un botto bello Non so chi di voi conosce Fairy Tail Ma questi sono palesemente i capelli di Natsu Se ci fosse stato uno stile senza la maschera Guarda, quasi quasi avrei preferito il maschera femmina Perché sta maschera è davvero orribile C'ha una specie di elmo E poi pure i picconi Che boh ci stanno 1800 questo costa un po' di più Perché vi dà anche il piccone Essendo che lo leva dal backpack E l'altro però, un dettaglio molto carino Lo leva proprio dal... Di fianco Dal... Sì, dai pantaloni Quella roba... La cinghia Canto di caccia Questo ve lo consiglio Questa a me non piace per niente Ha un sono stra particolare Stando mi piace un sacco il piccone No, anche questo con lo stile Alla Borderlands Il dettaglio è stranamente l'unico che non ce l'ha Infatti questo non ve lo consiglio tanto Boh, mi non piace troppissimo Sicuramente più del piccone ma boh Non mi dice niente Ed è illustrato che questo è invece già un acquisto più conveniente Ora Due emote Che sono associate allo stesso rapper che me lo conosco Giaba Switchway davvero mi annoia Ma non so perché Ma Goom Fasa la adoro Mi piace Un giorno me la comprerò Probabilmente Boh, mi piace il sound Alla Regina di Chia ce la vediamo dopo Intanto Vediamo il resto Emote di oggi Pugile ombre che tra l'altro comunque no Ci sta un botto Questa è molto carina Ve la consiglio Che è veloce Boh Mi piace la musichetta È ganso Cioè ci sta dai È carina Raga Se vi piace particolarmente È un acquisto molto sensato Direi Per se c'è di meglio Terapia della danza È bella Ma Ripeto Per le moto da 800 È tanto rischioso Perché poi magari Non ti piace più Non ti piace più Non la usi più Quindi cercate di Prendere solo quelli che vi facciano davvero tanto Poi magari c'è quelli che ci hanno vista quanti soldi Quindi fate con un po' come volete È il mio consiglio Fortuna Piccone Che Vi consiglio Perché riprendo pure il vecchio default Pure se adesso l'hanno regalato Quindi ora non ha più senso Però È davvero Secondo me carino Red Sound Dai ci sta Cioè Pure se a me non piace per niente Sto Smile Glacialitz Sasuke Mi piace un bot Cioè Di quelle Della set perma Sola stella la mia preferita Quindi questa ve lo consiglio Un bot per 800 Poi Saktum Boh Non saprei se consigliarvelo Perché non ha still Il backbox Sarà particolare Sto mantello Sembra che dietro Ci hanno spalmato Lo yogurt Non lo so Dello yogurt ai mertilli Però È drift In versione Vampiro È il maschio di tramonto Quindi ci sta Ci sta E adesso Passiamo Alla cosa principale Di oggi La regina dei ghiacci Saskin La sto aspettando Da un botto Perché Il set Regno dei ghiacci È uno dei miei preferiti In assoluto Perché ci hanno inseriti I brividi Che è una skin Non so perché Nonostante Mi piaccia I brividi In sé per sé Ma non c'entra niente Comunque Davvero Quattro stili Bisogna fare davvero Un casino Come vi ho detto Prima Oggi la compreremo E Vi porterò Il primo Di shopper Appena avrò Tutti i stili Ma la prendo Soprattutto per il backpack Che Regà Questo backpack È il mio preferito Nel gioco In the game Non c'è backpack Che mi piaccia Di più di questo Cioè davvero È abbinabilissimo Lo d'odore Attualmente 14 febbraio Sì 14 gennaio 2021 Lo d'odore Quindi Io direi Passiamo al piccone Pure Questo Anche questo Me lo volevo Comprare Però Ve lo consiglio Un botto Questo neanche Le sfide Dovete fare Per prendervi Gli stili Davvero Bellissimo Ma Non me lo sono Voluto prendere Perché ho Tanta altra Roba E mi voglio Prendere Quindi per il momento Però probabilmente Alla prossima uscita Anche il piccone Ci prendiamo Perché è davvero Tanto ganso Glacciatore Comunque Vi voglio far vedere Che tristezza Che Se clicco a questa V-Bucks Aggiuntimi Necessari 20 Triggered Però Andiamo a farci Una bella Scioppatina Da 5.000 Che tanto Me la sarei presa In ogni caso Dai andiamo E non so Sbatti Farmi le missioni Su salva 5.000 Ce li mettiamo Guardate È proprio Una soddisfazione Andiamo subito Nel negozio oggetti Regà Voglio un sacco Di like Per sta Bella Scioppatina Tattica Quindi Andiamo Subito La regina Di ghiaccio Aculeo Di Aculei Di ghiaccio Backpack Bellissimo Sfida Regina Di ghiaccio Regà Se ci vuole Fegato Ma Piam Adesso Regà Con questa Bellissima Skin Direi che Possiamo Finire Lo sguardo Allo shop Del 14 Gennaio 2021 Lasciatemi Un like Se vi va Perché Mi dare Sono Una grande Mano Quindi Io non Ho niente Altro A dirvi E dal Vostro Pia Di Mera